Dovrebbe trattarsi del sesto e ultimo capitolo cinematografico di Star Trek dopo 25 anni di avventure coi personaggi a bordo dell'Enterprise. Cattivissimi, Falchi, cercano in tutti i modi di rendere vano il tentativo di pace tra le superpotenze. I nostri eroi li sconfiggeranno. Priva di ritmo, quest'ultima avventura è riuscita comunque ad ottenere buoni incassi.